Ok, benvenuti a questo nuovo video del corso di tecniche di programmazione, dove tanto per cambiare vedremo insieme un esercizio. Finalmente oggi riusciamo a vedere un punto 1 simile a quelli che ci saranno all'esame completo, quindi andremo a creare un grafo e poi anche a visitarlo come ultimo punto. Allora ho pensato di strutturare l'esercizio in modo simile a quello che avete affrontato nell'ultimo laboratorio, quindi andremo a utilizzare lo stesso database, quello dei voli e degli aerei, ma ho cambiato qualcosina nella creazione del grafo, però secondo me risolvendo questo esercizio magari vi sarà utile anche per risolvere il laboratorio. Andiamo a vedere cosa cambia. Allora, mentre nel laboratorio come vertici andavamo a inserire tutti gli aeroporti, in questo caso abbiamo un filtro sui vertici. In particolare l'utente inserisce un numero di compagnie aeree minimo x in input e alla pressione del bottone per creare il grafo creiamo un grafo semplice, non orientato e pesato, i cui vertici però siano solo gli aeroporti su cui operano almeno x compagnie aeree. Ok, quindi non andiamo a inserire tutti gli aeroporti come vertici ma solo un sotto insieme di essi. Dopodiché gli archi devono collegare ovviamente questi aeroporti, in particolare collegano due aeroporti se sono questi aeroporti collegati da almeno un volo ovviamente, e il peso di questo arco deve rappresentare il numero totale di voli tra i due vertici, tra i due aeroporti. Come nel laboratorio, poiché il grafo non è orientato, attenzione che bisogna considerare tutti i voli in entrambe le direzioni, sia da A verso B che da B verso A. Detto questo, creato questo grafo, un po' diverso da quello del laboratorio, abbiamo l'ultimo punto che è una visita del grafo, così come avete imparato a fare nelle ultime lezioni. Bisogna permettere all'utente di selezionare un aeroporto di partenza e uno di destinazione da questi due menu a tendina. E alla pressione del pulsante test connessione occorre innanzitutto verificare se è possibile raggiungere l'aeroporto di arrivo a partire da quello di partenza, e viceversa, essendo il grafo non orientato. E ultimo punto, un po' più complicato, oltre a questo stampare anche un possibile percorso, se esiste, tra i due aeroporti. Il DB, come detto, lo conoscete già, tre tabelle, aeroporti, voli e airlines, quindi non spenderei troppo tempo a visualizzarne la struttura. Andiamo a vedere il progetto base che contiene esattamente le stesse cose che conteneva il progetto base del laboratorio. Quindi abbiamo già alcune classi nel package model che modellano le airline, gli aeroporti e i voli, eccetera. Poi abbiamo qualche codice, un po' di codice già scritto per quanto riguarda l'interazione con il DB. Ora che ci sono, cambio già la password mettendo la mia, con il DAO che contiene alcuni metodi che potrebbero tornarci utili, ad esempio quello che ci dà in output tutte le airline, tutti gli aeroporti e tutti i voli. Ovviamente noi partiamo dal modello per scrivere il nostro codice. Allora, direi di partire come sempre dal grafo che vogliamo creare, come sempre ce lo dice il testo dell'esercizio, che tipo di grafo ci serve, in questo caso è un grafo semplice, pesato, non orientato. E quindi andiamo a definirci una variabile private simple weighted graph, in cui dobbiamo specificare il tipo di vertici, in questo caso di nuovo aeroporti, airport, e il tipo di archi che andiamo ad utilizzare. Direi che in questo caso usiamo, come nella maggior parte dei casi, per gli archi, per i grafi pesati, una classe default weighted edge grafo. E la lasciamo per il momento così, andremo a creare questo grafo quando l'utente cliccherà sul pulsante per la creazione. Poi che cosa ci può servire? Beh, visto che i vertici sono degli aeroporti, quindi degli oggetti di classe che ci siamo definiti noi, in questo caso c'era già nel progetto base, ma comunque classe che ha un hash code e un equals implementate, direi che è bene definirci anche una identity map, così evitiamo di fare errori. Private id map uguale, anzi prima dobbiamo definirne il tipo, scusate, private map, l'interfaccia di che cosa? Di integer, perché gli id degli aeroporti sono degli interi, e ovviamente airport. ID map. Importiamo la mappa, benissimo. Altre cose che ci servono? Beh, sicuramente un riferimento al DAO per fare le nostre query. Quindi andiamo a vedere come si chiama il DAO, che è già stato scritto in parte per noi. Eccolo lì, private. Ext, flight, delays, DAO. Diamo un nome a questa variabile, chiamiamola DAO. Importiamo. Ok, dovremmo esserci bene o male con le strutture dati che ci servono. Definiamo un costruttore per il modello. Cosa andiamo a fare nel costruttore? Beh, sicuramente possiamo andare a innanzitutto creare la nostra identity map, che per adesso è nulla, non l'abbiamo ancora fatto la new. Quindi new, direi una hash map di integer airport. Importiamo. Creata la hash map, vogliamo andarla a riempire. Lo facciamo nel costruttore del modello, in modo tale che noi riempiamo questa mappa la prima volta, quando il programma viene lanciato, e poi tutte le volte che ci serve un aeroporto, andiamo a prenderlo, a pescarlo da questa mappa, senza fare ulteriori new. Quindi abbiamo il DAO, chiediamo di riempirci la mappa, quindi DAO punto, abbiamo già un metodo per farci dare tutti gli aeroporti, che dovremmo opportunamente modificare per lavorare con la nostra identity map. Prima di fare questo, ovviamente occorre anche creare un'istanza del DAO, adesso è ancora nulla, e quindi dobbiamo fare una new anche del DAO. Queste sono le cose che farei nel costruttore del modello. Andiamo a modificare brevemente il metodo del DAO per lavorare anche con l'identity map. Mi copio un attimo questa stringa qui, e la vado a inserire come parametro del metodo load degli aeroporti. A questo punto, come detto, non vogliamo più che questo metodo ritorni una lista, void, mettiamo, perché utilizziamo la mappa per contenere i nostri risultati. Quindi questa lista di supporto che noi ritornavamo non ci serve più, ok? Ma cosa facciamo? Anche questa risalta è da togliere. Cosa facciamo? Scorriamo i risultati, le righe della tabella airports, e ci andiamo a chiedere se la mappa non contiene quindi con un bel punto esclamativo davanti, se la mappa non contiene l'aeroporto modellato da tale riga della tabella in particolare uso l'id per recuperare il valore dalla mappa se non contiene se la mappa non lo contiene allora è bene fare una new dell'aeroporto ed inserire tale aeroporto nella mappa quindi id map punto put airport punto get id virgola airport Se invece la mappa contiene già un aeroporto con quelli di lì niente, non facciamo niente perché l'abbiamo già recuperato in precedenza e quindi non è caso di reinserirlo di nuovo Al termine di tutto il metodo chiamante questo load all airports quindi dal model avrà un id map che contiene tutti gli aeroporti Benissimo L'altra cosa da fare è ovviamente il metodo per creare il grafo Solito metodo public void crea grafo Chiediamoci subito Questo metodo riceverà qualche parametro dall'esterno? In questo caso sicuramente sì perché come abbiamo detto dovremo filtrare i vertici e prendere solo quelli gli aeroporti su cui operano almeno x compagnie aeree quindi questo parametro x verrà sicuramente passato dal controllore a questo metodo Oh benissimo Adesso Prima cosa da fare è creare ovviamente il grafo altrimenti è nullo quindi this.grafo uguale new simple weighted graph New simple weighted graph a cui dobbiamo passare default weighted edge.class Benissimo Quando l'utente clicca sul pulsante per creare il grafo io lo ricreo da zero e vado a popolarlo secondo le specifiche dell'esercizio Adesso aggiungiamo i vertici Come detto non sono da aggiungere tutti gli aeroporti ma solo quelli che rispettano il determinato vincolo Allora noi tutti gli aeroporti ce li siamo già presi ce li siamo già presi da qui la prima volta che lanciamo il programma Il metodo più semplice per fare questo filtraggio visto anche che il numero di vertici non è così elevato ce ne sono circa 300 di aeroporti è di scorrere i vertici gli aeroporti che abbiamo già recuperato e sono nella mappa Airport A in idmap.values Airport scusate e di fare una query al DAO per recuperarci l'informazione di quante compagnie agiscono operano su quell'aeroporto Se questo numero che ci dà il DAO è maggiore del parametro x allora aggiungerò l'aeroporto come vertice altrimenti non lo aggiungerò Quindi potrei pensare di adottare una soluzione del tipo If DAO.get Airlines number di questo determinato aeroporto è maggiore di x Allora inserisco l'aeroporto come vertice This.grafo.addVertexA Altrimenti se questo controllo non è verificato niente, vado avanti e non aggiungo l'aeroporto come vertice Ovviamente è una soluzione abbastanza semplificata Potevo studiarmi qualcosa anche di più complesso Tipo farmi dare già direttamente dal DB Solo gli aeroporti che rispettano questo vincolo Evitando di caricarmeli tutti Però direi che dato il numero di vertici limitato E visto che qui non siamo nella creazione degli archi Quindi non stiamo facendo un doppio ciclo form Ne stiamo facendo solo uno Direi che se riusciamo a mantenerci con un approccio semplice È anche più facile per noi capire cosa stiamo facendo E evitare errori Quindi andiamo a crearci questo metodo del DAO Che per ogni aeroporto mi dà il numero di compagnie Che operano su tale aeroporto Allora direi che possiamo switchare un attimo sul client SQL Per capire che query dobbiamo effettuare Sicuramente l'informazione che ci serve è nella tabella voli Perché nella tabella voli abbiamo sia un riferimento alla compagnia aerea Quindi l'ID della compagnia aerea Che ovviamente le informazioni relative agli aeroporti Gli ID degli aeroporti Direi che è inutile fare delle join strane tra le varie tabelle Possiamo recuperare tutte le informazioni che ci servono da questa tabella flights Se noi iniziamo a scrivere una query del tipo Select airline ID from flights Noi iniziamo a recuperarci tutti gli ID delle compagnie aeree presenti nella tabella flights Ora noi supponiamo di fissare un dato aeroporto E quindi andiamo a recuperarci tutti gli ID delle compagnie aeree che operano su quell'aeroporto Allora ovviamente nella tabella flights L'aeroporto può essere sia di origine che di partenza Noi non ci interessa Lo fissiamo dall'esterno E quindi nella where avrò una or Quindi dammi tutti gli ID delle compagnie aeree dalla tabella volo Dove l'aeroporto di destinazione è uguale al mio input Oppure l'aeroporto di destinazione è uguale al mio input Andiamo a vedere come si chiamano questi ID Origin airport ID e destination airport ID Quindi origin airport ID uguale a Supponiamo 1 or destination airport ID uguale a 1 Ok? Abbiamo fissato lo stesso aeroporto e controlliamo sia che sia origine o destinazione Vediamo un po' Lancio la query C'è un errore nella sintassi Scusate la or si fa così Ok Avevo sbagliato a scrivere la or E come vedete abbiamo una serie di ID in realtà uno solo Quindi presumibilmente su questo aeroporto con ID 1 opera una sola compagnia La compagnia numero 12 Allora se noi contiamo ovviamente questi ID Ovviamente troviamo un valore che Non rispecchia quello che vogliamo Ok? Perché abbiamo che l'ID della compagnia aerea è ripetuto più volte perché ci sono più voli su questo aeroporto Quindi attenzione che qui è fondamentale avere un distinct Altrimenti contiamo sbagliato Contiamo più volte la stessa compagnia Abbiamo visto che di compagnia operante sul aeroporto 1 c'è solo la 12 Quindi il risultato giusto è 1 Ok questa può essere la query che dato un aeroporto Il suo ID in particolare ci conta quante compagnie operano su di esso Copio la query E la vado a inserire qui nel mio metodo String SQL uguale Solito lavoro di sistemazione della query Togliamo gli spazi e gli slash n Ovviamente al posto di 1 mettiamo i punti interrogativi Ops Punto e virgola Perfetto Dopodiché avremo il solito try catch In cui Il pattern è sempre lo stesso Mi faccio dare una connessione al DB Preparo lo statement Vado a inserire i miei parametri St.setint Al primo parametro inserisco L'id dell'aeroporto A.getid Ma anche al secondo inserisco lo stesso parametro come abbiamo visto Quindi Setint 2 A.getid Eseguo la query In questo caso essendo un count mi aspetto un singolo risultato Quindi al posto del while utilizzo una if Se c'è un risultato e presumibilmente ci sarà Lo vado a recuperare e lo ritorno Quindi Direi che possiamo far così Definiamoci una variabile di supporto res In questo caso ritorniamo un intero Quindi definiamo la int E mettiamola a meno 1 Magari la definiamo prima del try catch Dopodiché se c'è un risultato e come dicevamo presumibilmente ci sarà Lo vado a prendere e lo metto nella variabile res Res uguale rs.getint Di che cosa? Vabbè per semplificarci la vita ridefiniamo il risultato di quest'account as tot Spazio Quindi faccio una getint di tot Poi mi ricordo di chiudere la connessione E ritorno la mia variabile res Magari la ritorno fuori da tutto Ops Ok Benissimo Torniamo nel model e abbiamo l'aggiunta dei vertici Solo gli aeroporti che rispettano questo vincolo maggiore di x Dopodiché la procedura rimane simile a quello che abbiamo fatto in laboratorio Cioè mi faccio la soluzione più efficiente E farsi dare dal DAO direttamente tutte le rotte Tra i vari aeroporti con già calcolato un peso Quindi io posso immaginare di avere una classe rotta Chiamiamola R Che modella appunto queste rotte tra i vari aeroporti con il peso In questo caso il numero di voli tra i due aeroporti Anche qui immagino di avere un metodo del DAO che mi restituisca le rotte A questo metodo presumibilmente passerò la mia identity map che ho già creato Eccoci qua Ovviamente la classe rotta è da creare ma lo facciamo a breve Anzi facciamolo subito Nel package model mi vado a creare una classe Rotta Che cosa modelliamo in questa classe? Beh sicuramente un aeroporto di partenza A1 E un aeroporto A2 di destinazione Ma anche il peso Int peso Quindi il numero di voli che c'è tra l'aeroporto A1 e l'aeroporto A2 Ovviamente utilizzo Eclipse per farmi generare un po' di cose Tipo il Il costruttore I get resetter sicuramente Ma anche il costruttore Eccolo qua E direi anche per non saperne leggere né scrivere L'hashcode ed equals Quindi source Hashcode ed equals Che campi posso utilizzare? Beh direi che in questo caso posso dire che una rotta è uguale a un'altra rotta Ma se l'aeroporto A1 e gli aeroporto A2 sono uguali tra le due rotte Quindi tolgo il peso da questo Dalle escode e dall'equals Ok Torniamo qui nel modello Abbiamo la classe rotta adesso E qui viene il punto un po' più critico Che c'era anche in laboratorio Perché il grafo non è orientato E quindi noi dobbiamo considerare sia le rotte in un verso da A a B Ma anche le rotte nell'altro verso da B ad A Allora secondo me il L'approccio più semplice è quello di Farsi dare tutte le rotte dal DAO Indifferentemente se queste rotte sono da A a B o da B ad A Io me le faccio dare tutte E poi le scorro E faccio questo controllo dei doppioni diciamo così qui Cioè in un primo giro del ciclo io magari sto considerando la rotta da A a B Mi chiedo esiste già un arco tra i vertici A e B? No Allora aggiungo il mio arco tra questi due vertici con il peso che recupero dalla rotta Al giro seguente del ciclo supponiamo di ricevere una rotta da B ad A A questo punto mi chiedo esiste già un arco da B ad A? Lo chiedo al grafo E lui mi dirà sì esiste già È un grafo non orientato E quindi hai appena aggiunto un arco da A a B e quindi questi due vertici sono collegati Ok allora non vado a inserire un nuovo arco perché c'è già Ma vado semplicemente a prendere il peso che ha questo arco e modificarlo con il peso della rotta che sto considerando Questo è il diciamo l'approccio più semplice secondo me Quindi io faccio così mi vado a prendere l'eventuale arco che c'è tra i due nodi della rotta Default weighted edge e uguale this punto grafo punto get edge tra il nodo A1 della rotta e il nodo A2 della rotta Perfetto Poi mi chiedo se è uguale uguale a null vuol dire che l'arco non c'è ancora lo vado ad inserire Quindi graphs punto add edge con i vertici e il peso anche eccolo qua Quindi dove vado ad aggiungere l'arco nel grafo ovviamente Qual è il nodo sorgente di R punto get A1 Qual è il nodo destinazione R punto get A2 Qual è il peso R punto get peso Ok questo è il caso più semplice Altrimenti se questa get edge mi ritorna veramente un arco vuol dire che questo arco c'era già tra i due vertici E allora cosa faccio? Mi vado a prendere il peso che c'era già sull'arco Quindi int peso vecchio chiamiamolo così Uguale This punto grafo punto get edge weight Questo metodo ritorna il peso passandogli un arco Quale arco gli passo? L'arco E che mi sono appena preso Il get edge weight ritorna un double Quindi non un intero ma va bene lo stesso In questo caso essendo il peso il numero di voli sarà sicuramente un intero Ma va bene lo stesso salvarlo come double Poi mi definisco un nuovo peso Peso nuovo Che è dato dal peso vecchio Più in questo caso il peso della rotta che sto considerando Nel laboratorio al posto di essere la somma era la media ma il concetto il concetto è lo stesso Ok E quindi adesso posso modificare il peso dell'arco esistente con il nuovo peso Come faccio? This punto grafo punto set edge weight Questo metodo cambia solamente il peso di un determinato arco Quale arco? L'arco E Quale peso? Il peso nuovo Tutto lì Quindi ci manca ovviamente il metodo get rotte Ok Ce lo facciamo definire qui nel DAO E lo andiamo a riempire insieme Allora Come faccio a farmi dare le rotte? Direi che questo metodo è molto simile a quello che dovreste aver utilizzato nel laboratorio Anche qui le rotte le posso prendere direttamente dal Dalla tabella flights In cui ho il riferimento dei due aeroporti di origine e destinazione e posso contare quanti voli ci sono tra ogni coppia di aeroporti Quindi direi possiamo definire direttamente la string SQL qui Posso selezionare le coppie di aeroporti Quindi origin airport id virgola destination airport id virgola count asterisco Quanti voli ci sono tra queste varie coppie As n Spazio Più vado a capo From la tabella flights Spazio Più Vado a capo Ovviamente qui dobbiamo avere una group by Avendo una funzione di aggregazione Group by I due aeroporti Punto e virgola Ok Ovviamente questa qui ci restituirà sia la rotta da A a B che probabilmente la rotta tra B ed A Ma noi andremo a filtrarla come abbiamo visto prima nel modello Di nuovo Qui in questo caso dovremmo ritornare ovviamente non un object ma che cosa direi una lista di rotte Quindi importiamo rotta E ci definiamo una lista qui di supporto che andremo a riempire result uguale new array list di rotta Dopodiché il solito noiosissimo pattern quindi il try catch Con la retorno finale Ok In questo caso è result Mi faccio dare la connessione Creo lo statement In questo caso non devo settare nessun parametro quindi eseguo direttamente la query Mi aspetto più di una rotta quindi while resrs.next E qui attenzione dobbiamo crearci delle classi rotte Classe rotta che ha il riferimento ai due aeroporti Come facciamo a recuperare questi aeroporti? Semplicemente dalla mappa che abbiamo l'identity map che abbiamo passato al metodo Quindi possiamo dire airport sorgente uguale idmap.get di che cosa? rs.getint di origin airport id Mi prendo il primo aeroporto della coppia Faccio lo stesso per la destinazione Ovviamente sarà destination airport id Ovviamente possiamo controllare che sorgente sia diverso da null E che anche destinazione sia diverso da null Altrimenti c'è stato un problema Possiamo stampare ad esempio un messaggio di errore Speriamo che non capiti mai questa cosa ma non dovrebbe se strutturiamo bene il programma Errore in get rotte Se invece riusciamo a recuperare gli aeroporti dall'identity map Semplicemente andiamo ad aggiungere alla nostra result Added Una nuova new rotta Dove? Passiamo sorgente Destinazione E poi il peso che recuperiamo con rs.getint tot Ok Questa è la get rotte Direi che abbiamo finito di creare il nostro grafo Ripeto, rispetto al laboratorio Cambia il fatto che non aggiungiamo tutti i vertici Ma solo quelli che rispettano questo determinato vincolo del numero minimo di compagnie aeree E poi invece della media facciamo la somma dei pesi Proviamo a collegare questo metodo al controller Magari definiamo anche due metodi per restituirci la grandezza del grafo creato Public int vertex set Sì vertex number Che semplicemente ritorna dis.grafo.vertexset.size E facciamo la stessa cosa per gli archi Public int edge number Return dis.grafo.edgeset.size Ok abbiamo tutti gli elementi per connetterci al controllore Andiamoci sopra Quindi qui La prima cosa da fare è andare a recuperare l'input inserito dall'utente Quindi int x uguale Integer punto Parse int Compagnie minimo Chiamo così il campo Punto get text Ovviamente potremmo controllare gli errori Anche in modo più furbo di quello che sto facendo adesso Ma per questioni di tempo inseriamolo semplicemente in un try catch Se si scatena un qualunque tipo di errore Vado semplicemente a stampare In txt result un messaggio generico di errore Ovviamente si potrebbe fare di meglio Ma Per questioni di tempo facciamo così Errore Nell'input Return Definiamo solo la variabile fuori dal try catch Se no poi non possiamo utilizzarla Ok Cosa facciamo? Creiamo il grafo Dis.model Punto Crea grafo A cui passiamo il parametro x E poi stampiamo Il I parametri del grafo appena creato Quindi Grafo Creato E poi possiamo anche appendere Guarda qui con uno slash n Il numero dei vertici Due punti Più Dis.model Punto Get Ops Model Punto Vertex number Ok Non mi ricordavo E anche il numero di archi Perfetto C'è un errorino In test dao Ah sì perché abbiamo cambiato il metodo Abbiamo fatto usare una L'identity map Ma Noi ora non ci serve più questo test dao Cancello tutto Non importa E proviamo a lanciare questo programma E vediamo quanti Migliaia di errori genererà Tasto destro Run Ok Inseriamo un numero di compagnie minimo Proviamo con 100 Clicco su analizza aeroporti E vediamo se ci crea il grafo oppure no Sicuramente ci mette un po' Perché come abbiamo visto abbiamo adottato un approccio abbastanza semplice Per controllare ogni volta che un aeroporto abbia o meno il numero di compagnie minimo necessario Quindi per ognuno dei vertici che andiamo ad inserire andiamo a fare una query al database E quindi per questo ci mette un po' di più Ok Circa mezzo minuto Non so 20 secondi Mezzo minuto Direi che è un tempo ancora ragionevole 320 vertici 2173 Archi Ok Adesso concentriamoci sulla visita di questo grafo Dobbiamo permettere all'utente innanzitutto di selezionare due aeroporti da queste tendine Dobbiamo andarle a riempire E poi di visitare il grafo premendo sul pulsante test connessione Iniziamo a riempire le tendine e poi vediamo vediamo la visita Allora vado nel controller E innanzitutto dico che i miei combo box andranno a contenere degli aeroporti Ok Dopodiché possiamo scegliere se in questi combo box visualizzare tutti gli aeroporti o solo quelli effettivamente contenuti nel grafo Direi che questa seconda strada è forse quella più furba Quindi prevediamo nel modello un metodo che ci restituisca questi vertici presenti nel grafo Quindi un metodo public Che ci restituisca ad esempio una collection di aeroporti Gli aeroporti presenti nel grafo Get aeroporti Quindi semplicemente facciamo una return di this punto grafo punto vertex set Importiamo collection Ok E adesso nel controller Non lo trovo più Eccolo qua Quando andiamo a lanciare il programma Quindi potrebbe andare bene nel set model Andiamo a popolare le tendine Quindi combo box aeroporto di partenza punto valius Non mi ricordo mai la sintassi Get items punto add all Ok Combo box punto get items punto add all Quindi passiamo una collection di degli elementi che vogliamo aggiungere in questo caso aeroporti Quindi this punto model punto get aeroporti Facciamo la stessa cosa per la tendina di destinazione Get items punto add all This punto model punto get aeroporti Nel farlo mi sono accorto che stiamo sbagliando il punto in cui O meglio sto sbagliando io Il punto in cui ho messo queste due istruzioni Perché ovviamente qui nella set model noi non abbiamo ancora creato il grafo D'accordo? E quindi questa get aeroporti non può ritornarci proprio un bel niente Quindi direi che queste due istruzioni vanno messe dopo che io ho creato il grafo Quindi ad esempio qui sotto può andare bene Quindi la prima cosa che fa l'utente è cliccare sul pulsante analizza aeroporti Che a sua volta crea il grafo e popola le tendine Benissimo Passiamo adesso all'ultimo punto di questo esercizio Che è il test connessione Dobbiamo sia stampare se due aeroporti sono connessi Ma anche eventualmente un possibile percorso Diciamo che le due cose sono strettamente collegate Perché se sono connessi due aeroporti ci sarà un percorso Altrimenti no Quindi nel nostro bel modello possiamo immaginarci un metodo che ci ritorni una lista di aeroporti Lista di aeroporti che modella il percorso tra due appunto aeroporti Detto questo Se questa lista di aeroporti sarà nulla Ovviamente vorrà dire che i due aeroporti non sono Non saranno connessi Viceversa se questa lista non è nulla Vorrà dire che sono connessi Quindi possiamo unire i due punti della richiesta in un unico punto Diciamo così Quindi airport Chiamiamolo trova percorso Trovo percorso tra due aeroporti Airport A1, airport A2 Importiamo la lista Ok Andiamo innanzitutto a creare questa lista Quindi list airport Percorso Uguale new array list Airport Importiamo Ok E allora come faccio a capire se due aeroporti sono connessi E in particolare a estrapolare un possibile percorso tra di essi Beh l'idea è quello di visitare il grafo Ovviamente E di mano a mano che si visita questo grafo Tenere traccia dell'albero di visita Allora detto questo Non ci sono grosse differenze qui tra fare una visita in ampiezza Una visita in profondità L'importante è capire come tenere traccia dell'albero di visita E dobbiamo fare un po' di lavoro in più Non basta visitare il grafo con un iteratore come avete visto Ma occorre agganciare a questo iteratore un traversal listener Che semplicemente ci permette di definire un metodo che viene automaticamente richiamato Ogni volta che la nostra visita attraversa ad esempio un arco del grafo E come facciamo a tenere traccia dell'albero di visita ogni volta che questo metodo viene richiamato Di solito si utilizza una mappa per salvare l'albero di visite Che me lo definisco qui Una mappa per modellare le relazioni padre figlio Quindi una mappa di airport airport Visite visita uguale new hash map di airport airport Cosa significa questo è che nella mia mappa avrò delle coppie di aeroporti Dove se c'è una coppia in cui la chiave è A1 e la chiave è A2 Modello il fatto che A1 è raggiungibile da A2 Relazioni padre figlio Dopodiché costruito questo albero di visite salvato nella mappa Userò la mappa per estrarre il mio percorso Uno dei possibili percorsi che modellerò come una lista di aeroporti D'accordo? Proviamo Innanzitutto devo definire il mio iteratore in ampiezza e in profondità Supponiamo di provare una visita in ampiezza Breath first iterator Airport default weighted edge Chiamiamo questo iteratore it Uguale new breath first iterator A questo iteratore dobbiamo dire su che grafo vogliamo fare la visita Quindi ovviamente di spunto grafo Ma vogliamo anche dire Dobbiamo anche dire il nodo di partenza Da cui far partire la visita In questo caso supponiamo A1 Vogliamo andare da A1 verso A2 Importiamo la classe che ovviamente ho sbagliato a scrivere Breath Breath Ok mi mancava una D credo Esatto La copio anche di qui Detto questo Possiamo far partire la visita Ma prima Occorre Agganciare un traversal listener A questo iteratore Proprio per Essere notificati ogni qualvolta Attraversiamo un arco nella visita E salvare mano a mano l'albero di visita Quindi it Punto Add traversal listener Allora ci sono vari modi di definire un traversal listener Potete crearvi una classe separata eccetera Io per comodità Utilizzo una classe anonima Faccio direttamente una new di un traversal listener qui dentro New traversal listener Dobbiamo sempre specificare airport E default Weighted edge E io apro le parentesi graffe qui Proprio per definirmi questa classe direttamente nella parentesi Nella parentesi tonda Importiamo Vedete che mi fa ridefinire i metodi Proprio qui Con una classe anonima di cui non ho neanche specificato il nome Per me è molto comodo perché La creiamo al volo qui E definiamo tutto quello che ci serve qua dentro In particolare creare un traversal listener Vuol dire fare l'override di tutti questi metodi In realtà ce ne serve solo uno Che è questo qui Quando attraversiamo un arco nella nostra visita Ci salviamo l'arco Diciamo la relazione padre figlio Tra il nodo sorgente e il nodo destinazione Nell'albero di visite Che per noi è una mappa Allora come facciamo Ci andiamo a prendere il nodo sorgente E il nodo destinazione dell'arco Che stiamo attraversando in questo momento Airport Sorgente Uguale Grafo Punto Get edge source Dove recuperiamo L'arco che stiamo attraversando Beh dal parametro E del metodo edge traversed Quindi E punto get edge Quindi chiediamo al nostro grafo di darci il nodo sorgente Di questo arco che stiamo attraversando Facciamo la stessa cosa con ovviamente la destinazione E qui sarà get edge target Perfetto E poi vediamo di salvarci L'albero di visita Come posso fare? Beh posso innanzitutto chiedermi se La mia visita Non contiene la destinazione Ma contiene Il nodo sorgente Se questo è vero Vuol dire che Nella nostra mappa Nel nostro albero di visita Abbiamo il nodo sorgente E possiamo modellare la relazione Padre figlio Da sorgente A destinazione Quindi possiamo dire che La nostra destinazione Si raggiunge da sorgente Quindi visita Punto put Destinazione Virgola sorgente Visto che però è un grafo non orientato Purtroppo per noi sorgente e destinazione sono intercambiabili Cioè dobbiamo anche fare il caso opposto Else Mi ricopio questa If qui Ma vado a cambiare Invertire Sorgente con destinazione E faccio visita Punto put Sorgente virgola destinazione Quindi mano a mano che noi attraversiamo Visitiamo il grafo Andiamo a salvarci queste relazioni Padre figlio Nella Nella mappa In modo tale da salvarci l'albero L'albero di visita Ok Non capisco perché ci sia questo errore Ma lo vediamo dopo eventualmente Ovviamente Prima di far partire la visita Possiamo già salvarci Nel nostro albero di visite La prima relazione La radice diciamo così Di questo Di questo albero Che ovviamente è partenza Quindi prima di Di aggiungere il traversal listener Io a visite Aggiungo la radice Del mio albero di visita Quindi visita Punto put Partenza Virgola Ovviamente null Perché E la mia radice E Partenza Non si può raggiungere Da Da nessun altro nodo Ovviamente dobbiamo recuperare partenza Cioè ce l'abbiamo già Non si chiama partenza Ma è A1 Ok Bene Fatto questo Ovviamente qui abbiamo solo definito Il traversal listener Dobbiamo ovviamente Lanciare la visita Quindi visitiamo Il grafo While It Punto As next It Punto Next Ok Quindi qui facciamo partire La visita E tutte le volte Che attraverseremo un arco In automatico Verrà richiamato Questo metodo qui Dal quale noi teniamo traccia Degli archi Attraversati Continuo a non capire Perché mi dia Questo problema Ma probabilmente Va a sapere Proviamo dopo A vedere se Viene eseguito lo stesso Detto questo Quando la visita termina Abbiamo Abbiamo detto Il nostro bellissimo albero di visite Allora possiamo Subito Controllare Se questi due aeroporti Sono collegati Oppure no Perché se il nostro Albero di visite Non contiene la partenza O non contiene la destinazione Vuol dire che banalmente I due vertici Non sono collegati Quindi Quindi if If not Visita Punto Contents Key A1 Or Not Visita Punto Contents Key A2 Beh direi che I due aeroporti Non sono collegati Return Null Così il chiamante Saprà che Visto che ha ricevuto un null Questi due aeroporti Non sono collegati Altrimenti Possiamo estrapolare Dalla nostra mappa Il percorso Come possiamo Come possiamo fare Possiamo seguire Queste relazioni Padre figlio Che abbiamo inserito Nella Nella mappa Mi definisco una variabile Step Aeroporto Che imposto uguale Alla destinazione A2 E poi dico che Finché Step Non è Uguale Alla Partenza Vado all'indietro Ok Parto dalla destinazione E risalgo l'albero di visita Finché non ritrovo Partenza A questo punto Ho saltato Questo controllo E quindi so che I due aeroporti Sono collegati Quindi prima o poi Risalendo nell'albero Dalla Destinazione Arriverò sicuramente A partenza Che è sempre A1 Sbaglio sempre il nome Risalgo Percorso Punto Ad Step Ok Quindi al primo giro Percorso Conterrà La La destinazione E poi Risalgo Facendo una get Nella mappa Step Uguale Visita Punto Get Di step Risalgo Di uno step Prendo Il nodo In cui Con cui Potevo raggiungere Il mio nodo Step E risalgo Man mano Finché Non ritrovo La partenza Che in questo caso È A1 Uscito dal while Ovviamente se Quando arrivo Ad avere lo step Uguale Alla partenza Ad A1 Non entro Neanche nel while Quindi è bene Prima di ritornare Percorso Anche aggiungere La partenza Percorso Punto Add A1 Perché altrimenti Non veniva Non veniva Aggiunta E return Percorso Quindi questo è un po' Il modo con cui Costruiamo L'albero Di visita E dall'albero Di visita Partiamo Dalla Destinazione E risaliamo Fin verso La partenza Per estrapolare Un possibile Percorso Tra due Vertici Collegati Allora io Questo metodo Lo posso richiamare Dal controller Ovviamente Devo andarmi A recuperare I due aeroporti Selezionati Dalla tendina Quindi Airport A1 Uguale Combo box Partenza Punto Get Get item No Get value E anche Airport A2 Uguale Combo box Destinazione Punto Get value Qui direi che L'unico controllo Da fare E che l'utente Abbia effettivamente Selezionato Entrambi Gli aeroporti Quindi se uno dei due È nullo Diamo un errore Or A2 Uguale Uguale a null Stampiamo TXT Result Punto Append Text Seleziona I due Aeroporti Return Altrimenti Ci facciamo dare Il percorso dal modello Airport Percorso Percorso Uguale Dis Punto Model Punto Get Come lo abbiamo chiamato Trova percorso A1 A2 Importiamo list E possiamo chiederci If Percorso Uguale Uguale a null Significa Abbiamo visto Che i due aeroporti Non sono collegati Quindi stampo TXT Append Text I due Aeroporti Non Sono Collegati Else C'è un percorso Stampiamolo Adesso per semplicità Faccio una stampa Un po' brutale Si potrebbe fare di meglio Ma è solo per provare Quindi Percorso Punto ToString Ok Adesso proviamo a lanciare Vedere se quell'errore strano Sparisce Oppure No Allora Ricreiamo il grafo 100 Analizza Aeroporti Attendiamo qualche secondo Abbiamo visto che Ci mette un pochino Ma poi lo crea Eccolo qua Creato Provo a selezionare Due Due aeroporti Dalle tendine E proviamo a cliccare Su test Connessione E vediamo E vediamo Se ci Salta fuori Qualche Qualche percorso Tra i due aeroporti Sembra abbastanza lento La cosa La cosa mi fa Che ho dimenticato Che ho dimenticato Dall'inizio Di questo esercizio E me ne scuso E che qui abbiamo dimenticato Di fare un controllo Cioè Noi nel grafo Andiamo a inserire Solo determinati vertici E quindi Dobbiamo anche controllare Prima di aggiungere Un arco Tra una rotta Tra un Tra un aeroporto E l'altro Della rotta Che questi aeroporti Ci siano nel grafo Perché altrimenti Purtroppo Questa Add edge With Vertices Aggiunge In pratica Per noi L'aeroporto Che noi avevamo Escluso Ok Quindi sicuramente Qui manca If This Punto Grafo Punto Contains Vertex R Punto Get A1 And This Punto Grafo Punto Contains Vertex R Punto Get A2 Quindi andiamo A Aggiungere L'arco Solo se I due vertici Della rotta Ci sono nel grafo Questo sicuramente Riduce la dimensione Del grafo Perché purtroppo Senza questo controllo Questa Questa Add edge Aggiungeva Dei vertici Che noi avevamo Escluso in precedenza Quindi Questo è il primo problema Ma immagino Che non sia Solamente questo Quindi controlliamo Bene qui La nostra Visita Ah beccato Beccato Qui finché c'è un Elemento Prossimo Nella visita Ovviamente non è It.as Next Se no Non vado Mai avanti Ok Riproviamo Stavolta Dovremmo Esserci Quindi sicuramente Erano anche Sbagliati i dati Che ci venivano Provando con 100 compagnie Minime Perché infatti Ci venivano 320 vertici Ma in pratica Erano tutti Gli aeroporti Del DB E non era possibile Anche perché il numero 100 Per le compagnie Operanti Su un singolo Aeroporto È tanto Forse spropositato Direi di provare Con 10 A questo punto Ci mette comunque Abbastanza Però Dovremmo Avere dei numeri Dei numeri Abbastanza diversi Con questo controllo In più Che abbiamo messo Di cui mi ero dimenticato E infatti Infatti vedete che Anche solo con 10 Compagnie minime Abbiamo solo più 23 vertici E 233 Archi Ok Quindi Senza quel controllo Lì Era Venivano dei numeri Sballati Proviamo a selezionare Due aeroporti Ok Vedete che stampa Adesso subito Direi che ci siamo Partiamo Partiamo Ovviamente al contrario Come abbiamo detto prima Partiamo dalla destinazione L'86 E andiamo su 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 Fino al Al 39 Che è la La destinazione La sorgente scusate La stampa fa schifo La sistemerò Ma direi che Siamo arrivati A conclusione Quindi Ricapitoliamo un attimo La creazione Del grafo Andiamo ad aggiungere Solo alcuni vertici Quindi per questo Quando poi noi Andiamo a prendere Tutte le rotte In questo caso È fondamentale Controllare Prima di aggiungere Un Un arco Controllare che i vertici Siano presenti Nel grafo Altrimenti Questa Ad edge Aggiunge comunque In pratica Se non trova il vertice Lo crea Lo aggiunge Lei da sola Ma non è questo Il comportamento Che vogliamo Quindi questa riga Che avevo dimenticato È fondamentale Dopodiché abbiamo visto La visita Abbiamo visto Come salvarci Tramite una mappa L'albero di visite Ed estrapolare Risalendo Questo albero Questa mappa Il percorso Tra i vari vertici Del grafo Ok per oggi è tutto Vi ringrazio per l'attenzione E ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video